E allora, il serpente disse a Eva, assaggia il frutto proibito e conoscerai tutte le gioie della lussuria. Ah, il frutto proibito va assaggiando lentamente. È proprio necessario? Sì. Non mi è capitato spesso un uomo come te. Dovrà essere un'esperienza che ricorderò per tutta la vita. E ti assicuro che la ricorderai anche tu. Quello che mi fa impazzire in te è che sei imprevedibile. Dai dite te, sono imprevedibili. Aspetta. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.